L'occupazione in Umbria ha registrato risultati assolutamente straordinari con un tasso di occupazione che nel 2023 è cresciuto di 1.6 punti percentuali rispetto al 2022 che è superiore alla media sia del centro Italia che dell'Italia totale. Il nostro tasso di disoccupazione registra un dato positivo che nel 2023 è intorno al 6% con una media centro del 6.3 e una media Italia del 7.8 addirittura, quindi abbiamo dati sull'occupazione in generale e giovanile in particolare molto rassicuranti. L'Umbria è una regione caratterizzata da un territorio vario, quindi anche con una importante presenza di territorio montano, quindi molto importante sarà utilizzare al meglio le risorse che consentono appunto nelle aree interne, nei territori marginali di aiutare l'impresa agricola e anche al di là della presenza territoriale molto importante sarà utilizzare al meglio le risorse che determinano il passaggio di padre in figlio dell'attività e dell'impresa agricola. La sanità Umbra sta andando benino perché ovviamente come in tutte le altre regioni d'Italia sconta il quadro che ha ricevuto il centrodestra in Umbria, che è un quadro di massima problematicità per quello che attiene alle professioni sanitarie, per quello che attiene alla distribuzione dei LEA, per quello che attiene appunto alle liste d'attesa. Nella fattispecie su quest'ultimo dato noi abbiamo trovato circa 82 mila prestazioni in lista d'attesa, ad oggi sono dimezzate, cioè sono meno di 40 mila e questo è un buon risultato ottenuto dal governo di centrodestra della regione. È sufficiente? No, va fatto ancora molto e molto altro. Lo faremo nei prossimi cinque anni.